Federazione della sinistra Paolo Ferreri Salve a tutti e a tutte Penso che innanzitutto oggi dobbiamo ringraziare quel popolo viola che nelle settimane scorse ha fatto sì che la posizione ricominciasse a fare il suo metiere e ci ha invitato a scendere nelle piante così come dobbiamo ringraziare la CGL che ieri ha fatto uno sciopero generale che oggi Sanconi dice non essere esistito grazie alla CGL, grazie a quei lavoratori e quelle lavoratrici che sono scese in piante lo dico perché penso che l'attacco alla democrazia avviene da questi ignobili decreti che riammettono le liste che non hanno diritto ad essere votate ma avviene soprattutto sulle questioni del lavoro su quell'attacco all'articolo 18 che è partito la settimana scorsa al Senato e di cui nessuno parla quest'idea, l'idea di questo governo è che bisogna abolire i contratti nazionali di lavoro è l'idea che bisogna impedire ai lavoratori di far rispettare i loro diritti anche col magistrato questo governo vuole che i lavoratori diventino dei servi e questo non glielo possiamo lasciar fare perché questa è una logica antidemocratica da cui parte l'attacco alla democrazia così come l'altro attacco alla democrazia parte dalle questioni della scuola quando si tagliano i fondi per la scuola quando si diminuisce l'età dell'obbligo quando si buttano in mezzo a una strada i precari si sta dicendo che questo governo non ci vuole cittadini ci vuole sottiti e ignoranti perché pensa che gli ignoranti li può governare meglio come vogliono loro e ci sono delle cose a cui ahimè ci siamo abituati anche noi perché noi il 28 e il 29 andremo a votare per le elezioni regionali ci sono 3 milioni di immigrati che lavorano, che vivono assieme a noi tutti i giorni che non andranno a votare questa qui è un mondo per la democrazia questo è un modo per distruggere la Repubblica nata dalla resistenza e allora io penso che la manifestazione che ci vede tutti assieme oggi qui che vede tutti assieme voi queste bandiere diverse tutti assieme non è solo per bloccare Berlusconi perché cosa vorrà fare ma è per dire basta ad un governo che vuole togliere ogni vincolo libero arbitrio di quelli ricchi e dei potenti e che vuole togliere i diritti per i lavoratori per i più deboli questa è la roba fascista che sta facendo questo governo e però io penso e visto che oggi siamo qui tutti assieme dobbiamo anzi prenderci un impegno per il futuro e io ne propongo tre in questa piazza tutti insieme il primo è che questa giornata non rimanga una giornata isolata non basta una protesta o una tantum bisogna costruire un movimento di lotta unitario di tutte le opposizioni contro questo governo che si faccia in tutto il paese perché questo governo va cacciato e allora vi voglio costruire nelle piazze vi voglio far sapere che cosa fanno non basta una giornata sola e la seconda cosa che vi propongo è che facciamo tutti assieme una grande campagna referendaria contro le leggi in vergogna di questo governo contro il nucleare contro la privatizzazione dell'acqua contro queste ignobile leggi sul lavoro che vuole abolire l'articolo 18 facciamole insieme tutte le opposizioni una grande campagna referendaria ricostriamo quello che è un popolo della sinistra che faccia sentire la sua voce e una terza cosa è un impegno prendiamo l'impegno oggi che al di là delle differenze che ci sono tra di noi alle prossime elezioni si vada tutti insieme per battere per l'ustore perché bisogna costruire la rosa ma bisogna anche costruire una speranza al futuro e allora al di là delle differenze che ci sono tutti assieme per battere per l'ustore e impedire che questo signore distrugga questa repubblica per cui tanti giovani tanti uomini tante donne sono morte sulle montagne 60 anni fa non lasciamo gliela distruggere grazie